Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Dynafit Ultra 100, la scarpa da ultra distanza rivista di casa Dynafit di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito parlando delle caratteristiche di queste Dynafit Ultra 100. Per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Mega Grip con tecnologia Traction Lug, con un tassello alto 4 mm. Intersuola molto alto, addirittura di 32 mm nel tallone e 26 sull'avampiede, quindi con un drop di 4 mm. Abbiamo poi una tomaia in mesh traspirante e una tecnologia Hell Preloader per il tallone. Peso nella taglia 42 pesano solamente 309 grammi. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito parlando della suola di queste Dynafit Ultra 100. Come vi dicevo qui troviamo una suola Vibram con mescola Mega Grip e tecnologia Traction Lug. Cosa vuol dire tutto ciò? Innanzitutto come potete vedere troviamo una suola che va a tutta lunghezza sulla scarpa, quindi non abbiamo parti di intersuola esposte e questo mi piace sempre tanto. Il tassello poi è molto ampio con questa forma diciamo a mezzaluna messa in modo opposto tra vampiede e tallone per aiutarci a frenare e spingere. Ma come performa questa suola? Beh il Mega Grip lo sappiamo ha una gran tenuta. Infatti su roccia anche bagnata questa suola tiene davvero davvero tanto. La tecnologia Traction Lug dovrebbe aiutarci nel fango. Anche se io ho notato che questa scarpa sul fango non ha una così gran tenuta e soprattutto il fango non va a liberarsi molto velocemente. Vi assicuro che se beccate una giornata in cui magari ha appena smesso di piovere quindi c'è magari un po' di fango in giro scivolerete abbastanza. Però per quanto riguarda la roccia bagnata e poi tutto quello che è l'asciutto il Mega Grip è sempre un'ottima suola. Unica cosa a livello di durabilità questa suola mi è sembrata molto morbida e sto notando che già dopo averci fatto poco più di 100 km i tasselli si stanno usurando abbastanza. Quindi non è una suola con quale potremmo fare tanti tanti chilometri. Secondo me arrivati sui 500 avremo probabilmente già finito la suola. Continuiamo e possiamo parlare dell'intersuola. Questo intersuolo è molto interessante perché come vi dicevo abbiamo un drop di 6 mm con 32 mm di altezza sul tallone e 26 sull'avampiede. È un'intersuola che appena calziamo la scarpa risulta essere abbastanza secco. In sé la scarpa non è così morbida, cioè quando si mette il piede non si ha quel senso di affondare all'interno dell'intersuola. È una scarpa che ho trovato più tendente al secco rispetto che tendente all'ammortizzato. Questo in soldoni cosa vuol dire? Che ha davvero un'ottima reattività. Vi assicuro tra tutte le scarpe da ultra che ho provato in questi mesi, questa probabilmente è quella che ha l'attività migliore. Vi assicuro che correrci anche a 4-4,20 al chilometro in tratti in piano la scarpa va. Va veramente veloce e mi piace davvero tanto questa caratteristica. Poi questo intersuolo molto denso fa sì anche che ci sia comunque un certo grado di protezione contro le rocce nella parte inferiore. Quindi diciamo che l'intersuola mi è piaciuto. Poi naturalmente vediamo per chi è meglio utilizzare questo tipo di calzatura. Però a me è personalmente piaciuto. Continuiamo arrivando a parlare della Tomaya. Per quanto riguarda il puntale troviamo un puntale che non è così rigido. Me lo sarei aspettato un pochino più rigidino. È abbastanza morbido. Mi piace tutta la parte plastica poi messa attorno al puntale per far sì che la Tomaya non vada a rovinarsi e non ne comprometta l'utilizzo nel tempo. Quindi molto bene da questo punto di vista. E parlando proprio di Tomaya vi assicuro che è veramente molto molto traspirante. Ma lo si vede anche a occhio. Ha dei fori veramente grossi quindi il calore e il sudore può uscire molto velocemente. E poi mi piace che la traspirabilità continui per tutta la Tomaya. Cioè noi troviamo la parte traspirante quasi fino alla punta del tallone. Quindi anche questo sicuramente è un ottimo aspetto. Visto che ne parlavamo, tallone. Qui troviamo la tecnologia Hell Per Loader di Dynafit. Una tecnologia che mi è piaciuta perché rende la scarpa molto stabile. Nonostante sia alta più di 3 centimetri, tra avere questo intersuolo un pochino secco e il tallone con questa tecnologia vi assicuro che è molto molto stabile. Anche su terreni tecnici l'ho trovata veramente molto precisa, stabile. Dove mettiamo il piede resta quindi molto bene. Cosa che mi è piaciuta un pochino meno è l'imbottitura. Infatti troviamo un'imbottitura che è un pochino scarna e se devo essere sincero a me ha creato un po' di rossori sulla parte proprio posteriore del piede sul tallone. Non mi ha creato vesciche eccetera ma rossori. L'unica cosa con quale potremmo sopperire è una calza un pochino più imbottita in modo tale da avere un'imbottitura data anche dalla calza. Per quanto riguarda linguetta e lacci, allora linguetta è di tipo racing quindi ristricata all'osso senza l'imbottitura però svolge veramente bene il proprio lavoro e non si sente la pressione dei lacci. Resta ferma quindi linguetta che mi è piaciuta. E poi per quanto riguarda in generale i lacci, bene, sono classici, hanno una sezione tonda. Troviamo inoltre una taschina posta nella parte superiore del collo dove andare a nascondere i lacci. È questo bene ma non benissimo. Bene perché possiamo nascondere i lacci e poi un'ulteriore protezione sul collo anche per evitare che entri qualche materiale all'interno della scarpa. Male perché con questo tipo di taschino faccio abbastanza fatica a tirare i lacci sulla parte dell'avampiede. Davvero si fa abbastanza fatica e diciamo bene e non benissimo quindi. Per quanto riguarda invece la soletta all'interno è una soletta Ortolite ribrandizzata Dynafit. Ormai le solette Ortolite, le conosciamo, lavorano bene e vi confermo che lavora bene anche su questa calzatura Dynafit. Infine a livello di calzata questa scarpa calza veramente molto molto fasciante e stretto. Il piede all'interno non si muove per nulla e anche l'avampiede non è così tanto generoso. Se avete un piede largo o comunque qualche millimetro in più del normale qua sicuramente dovete usare di mezza taglia in più. Se non addirittura una taglia in più. È un avampiede che ho trovato abbastanza stretto e fasciante. Ma per quale atleta mi sento di consigliare queste Dynafit Ultra 100? Sicuramente per un atleta abbastanza evoluto. Diciamo intermedio evoluto. Lascierei perdere se siete dei principianti perché l'intersuola non è così tanto ammortizzante e la reattività di questo intersola ne si sente benefici quando si corre abbastanza veloce. Quindi diciamo che in generale lo consiglio sicuramente per un atleta medio evoluto un po' per tutte le distanze che vuol fare gare dalle 50 ai 100 km. Quindi atleti di media alta classifica. E su quale tipo di terreno andrei a utilizzarle? Allora sinceramente un po' tutti. Sicuramente non il fango. Sul fango questa suola non mi è piaciuta perché sono scivolato parecchio. Secondo me questa scarpa è perfetta per quel tipo di gare ultra che all'interno hanno anche dei passaggi tecnici. Quindi mi viene in mente magari una Dolomit Extreme, una Valmalenco Ultra Trail o comunque gare di questo tipo che all'interno hanno passaggi anche ad alta quota. Dunque arriviamo alle conclusioni per queste nuove Dynafit Ultra 100. Ve le consiglio? Sì, sì perché io mi ci sono trovato davvero molto bene. Per il tipo di gare che vi dicevo prima è perfetta, davvero tanta roba. Vengono vendute sul sito ufficiale di Dynafit a 170 euro. In giro le ho già trovate a 140 online sui 150. Secondo me ci stanno. Davvero, secondo me è una buona scarpa. Una scarpa anche per chi vuole correre veloce, per chi punta anche a vincere delle gare di ultra. Quindi sì, io personalmente ve le consiglio. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!